benvenuti al corso di formazione presentazione digitale e conservazione della cucina rituale europea modulo 2 teoria e pratica di base fondamenti teorici della fotografia l'esposizione e la messa a fuoco la giusta esposizione i fattori che influenzano l'esposizione tempo apertura sensibilità del sensore questa lezione si propone di fornire agli studenti le nozioni i concetti di base relativi alla messa a fuoco e alla corretta esposizione inoltre gli strumenti che consentono di gestire la luce per una corretta esposizione al termine della lezione gli studenti sapranno come gestire gli strumenti che regolano l'esposizione e la messa a fuoco una fotocamera cattura semplicemente una certa quantità di luce e la dirige verso il sensore o la pellicola fotografica il sensore o la pellicola fotografica riproduce l'immagine fotografica per mezzo della luce pertanto è molto importante che la quantità di luce sia bilanciata altrimenti avremo foto troppo chiare o troppo scure o come si dice in termini tecnici un'immagine sovraesposta o sottoesposta il modo più semplice per verificare se stiamo fotografando con l'esposizione corretta è controllare l'esposimetro della nostra fotocamera guardando all'interno del mirino l'esposimetro è uno strumento utilizzato in fotografia per misurare la luce presente sulla scena che stiamo fotografando l'esposimetro fornisce un valore necessario per regolare la nostra fotocamera e scattare una fotografia con l'esposizione corretta gli esposimetri sono costituiti da celle di silicio fotosensibili che misurano la luminosità di un soggetto possono essere interni ed esterni gli esposimetri esterni erano molto importanti prima dell'avvento della fotografia digitale oggi tutti i misuratori di luce sono dentro le fotocamere bisogna distinguere tra quelli delle compatte e quelli delle macchine fotografiche reflex questi ultimi si trovano all'interno del corpo macchina e misurano la luce da dietro l'obiettivo sono molto più precisi perché tengono conto della diffusione diffrazione e attenuazione della luce provocati dall'ottica e da eventuali filtri gli esposimetri interni delle fotocamere digitali hanno quattro modalità di misurazione della luce e quindi di calcolo della corretta esposizione sulla tua fotocamera troverai i simboli corrispondenti per ciascuna modalità di misurazione matrix o valutativa misura la luce in tutte le zone del mirino utilizzando diversi sensori questo calcolo è sicuramente il più complesso ed affidabile parziale delimita un'area al centro dell'inquadratura a cui dare più importanza nella misurazione della luce è utile quando si hanno soggetti in primo piano con sfondi luminosi o anche quando si scatta in controluce spot misura la luce solo al centro del mirino in un'area limitata è adatto in particolari situazioni di illuminazione come ad esempio spettacoli teatrali o in pieno controluce calcolando l'esposizione proprio sul soggetto desiderato la macchina non verrà ingannata dalla luce o oscurità che la circonda utile ma difficile da usare e richiede una buona esperienza da parte del fotografo media ponderata al centro viene eseguita al centro del mirino e da questa valutazione viene quindi calcolata una media e applicata all'intera scena è una modalità che sta pian piano cadendo in disuso in quanto con la modalità valutativa e parziale si ottengono quasi sempre risultati migliori una volta compreso come misurare la luce dobbiamo capire come gestire la luce per una corretta esposizione i strumenti che ci permettono di farlo sono tre il diaframma l'otturatore e il sensore modificando manualmente i parametri di questi tre strumenti o lasciando che la fotocamera lo faccia per noi adottando la modalità automatica questi strumenti interagiscono tra loro in modo diverso per determinare l'esposizione della fotografia ti ricordi qual è il processo della fotografia la luce entra nell'obiettivo passando attraverso il diaframma quindi l'otturatore si apre e lascia passare la luce che colpisce il sensore il quale registra l'immagine o la scena che stiamo inquadrando ciascuno dei tre strumenti agisce direttamente sulla quantità di luce che colpirà il sensore il diaframma può essere più o meno aperto apertura lasciando passare più o meno luce l'otturatore si alzerà più o meno velocemente lasciando passare più o meno luce tempo di esposizione ed infine possiamo regolare le iso del nostro sensore per fare in modo che questo sia più o meno sensibile alla luce la sensibilità iso il diaframma è composto da una serie di lamelle che formano un foro che possiamo aprire o chiudere per far passare più o meno luce attraverso la lente dell'obiettivo nelle fotocamere l'apertura del diaframma è indicata dal simbolo f e da un numero la f sta per frazione di e dipende dall'obiettivo che abbiamo montato sulla fotocamera ad esempio se abbiamo un obiettivo da 50 mm lo stop 2 f indica che il diaframma avrà un'apertura di 25 mm oppure se abbiamo un obiettivo da 100 mm lo stop f 8 indica che il diaframma avrà un'apertura di 12,5 mm pertanto un numero f basso corrisponderà ad una grande apertura mentre un numero alto indicherà un'apertura minima la velocità dell'otturatore è il tempo in cui l'otturatore rimane aperto per consentire alla luce di colpire il sensore l'unità di misura che viene presa come riferimento sono i secondi e le frazioni in una giornata di sole basterà lasciare aperto l'otturatore un centesimo di secondo se fotografiamo qualcuno in ombra o al tramonto dovremo lasciare l'otturatore aperto più tempo le riprese notturne richiedono che l'otturatore rimanga aperto anche per diversi secondi la velocità dell'otturatore ci consentirà anche di creare effetti di nostro gradimento se vogliamo fissare o cristallizzare una scena in movimento ad esempio un'auto che sfreccia sulla strada o una cascata selezioneremo un tempo di scatto molto veloce se invece vogliamo creare delle strisce di movimento scatteremo con un tempo di posa più lungo e quindi l'otturatore dovrà rimanere aperto per più tempo il termine iso è l'acronimo di international standards organization si tratta di una organizzazione internazionale con sede a ginevra che ha il compito di armonizzare tutte le procedure tecniche e metrologiche a livello mondiale in questo caso la sensibilità delle pellicole fotografiche è stata standardizzata a livello globale questa indicazione è rimasta anche con l'avvento delle fotocamere digitali quindi l'iso in fotografia indica quanto rendiamo il nostro sensore sensibile alla luce l'impostazione iso nella fotocamera serve quindi ad aumentare o diminuire la luce che viene registrata dal sensore in particolare è molto utile per fotografare in situazioni di scarsa illuminazione o quando dobbiamo ridurre i tempi di posa o diminuire l'apertura del diaframma la scala iso delle fotocamere digitali passando per incrementi di un stop può essere 100 200 400 800 1600 3200 6400 12800 e anche superiore questo dipende dalla potenza e dalla qualità del sensore della nostra fotocamera scattare foto aumentando il valore iso tuttavia comporta un problema aumentando le impostazioni iso il sensore diventa più sensibile e inizia a registrare alcuni fotoni in modo irregolare quindi aumenta la possibilità di errore nel campionamento dei fotoni questo fenomeno è chiamato rumore il rumore si verifica maggiormente nelle aree della foto con toni scuri e con aree uniformi cioè con pochi dettagli la presenza di rumore nella fotografia rende l'immagine meno definita mentre nella fotografia con pellicola fotografica il rumore si trasformava in un effetto granuloso dell'immagine che poteva essere anche apprezzabile e particolare nella fotografia digitale il rumore peggiora la qualità visiva dell'immagine tuttavia il rumore sarà più fastidioso se decidiamo di stampare le nostre fotografie il rumore sarà meno fastidioso se le fotografie sono destinate ad essere pubblicate sul web un altro strumento molto utile per verificare che l'esposizione della nostra fotografia sia corretta è l'istogramma fotografico a differenza degli altri tre elementi fondamentali per ottenere una corretta esposizione l'istogramma fotografico può essere letto solo dopo lo scatto della fotografia l'istogramma è ovviamente uno strumento dell'era digitale che la fotografia analogica non aveva sicuramente è di grande aiuto perché punto una cosa è un'interpretazione soggettiva un'altra è il giudizio oggettivo e numerico prodotto dall'intelligenza artificiale della nostra fotocamera che cos'è un istogramma fotografico l'istogramma fotografico è un grafico che rappresenta la distribuzione dei pixel in una fotografia in base alla loro luminosità nel grafico dell'istogramma troveremo sul lato destro i pixel scuri al centro i pixel dei mezzi toni e a sinistra i pixel chiari dopo aver scattato la nostra fotografia potremo vedere il suo istogramma direttamente dalla fotocamera una fotografia sottoesposta avrà un picco di pixel sul lato destro del grafico una fotografia sovraesposta avrà un picco di pixel sul lato sinistro del grafico una fotografia con una corretta esposizione avrà un grafico a campana quindi i pixel saranno concentrati nella parte centrale del grafico ma questa non è una regola fissa infatti alcune fotografie che non hanno tutti i pixel concentrati nella parte centrale del grafico non verranno buttate ad esempio una foto notturna non avrà mai un istogramma a forma di campana ma avrà i pixel concentrati nella parte sinistra del grafico una foto contro sole avrà uno squilibrio sul lato sinistro del grafico nonostante questo potrebbero essere foto bellissime e da non cancellare in questa lezione abbiamo visto quali sono i fattori che determinano una corretta esposizione data dalla giusta quantità di luce che colpisce il sensore strumenti che ci permettono di controllare la quantità di luce sono l'apertura l'otturatore che determina la velocità di scatto e la sensibilità iso del sensore questi tre strumenti interagiscono tra loro per ottenere una corretta esposizione e sono strettamente collegati tra loro la loro interazione può essere spiegata grazie al triangolo dell'esposizione il triangolo dell'esposizione ci dice come regolare i tre strumenti che regolano reciprocamente l'esposizione per quanto riguarda la sensibilità iso sappiamo che genera il problema del rumore per evitare ciò dobbiamo diminuire la velocità dell'otturatore o aprire il diaframma per far entrare più luce per quanto riguarda il diaframma questo regola la profondità di campo se apriamo il diaframma dobbiamo diminuire la velocità dell'otturatore o aumentare la sensibilità iso infine per quanto riguarda la velocità dell'otturatore se vogliamo un fermo immagine dobbiamo scattare velocemente quindi dovremo aprire il diaframma o aumentare gli iso per una corretta esposizione e per dare libero sfogo alla nostra creatività bisogna trovare il giusto equilibrio non dobbiamo dimenticare che dipende sempre dal soggetto che stiamo fotografando il corso è stato realizzato dal consorzio del progetto eurica finanziato dal programma erasmus plus grazie per l'attenzione